Dove è vedere un gigante in Lombardia? Ho aperto Google Maps e cercando l'ho trovato. Ci troviamo a Songavazzo, in provincia di Bergamo, e vi presento Ugo. Un nome che ho scelto io, sinceramente. Non lo so, c'aveva la faccia da Ugo. Anche soprannominato Gigante di Legno. Infatti è una grande scultura, completamente fatta di legno. Il parcheggio è completamente gratuito. Potete vedere Ugo da vicino, anche scattarci qualche simpatica foto. Siamo che è una cosa particolare che non si vede tutti i giorni. Vuoi? Seguimi per scoprire i nuovi posti.